Nel video di venerdì avevo detto che ai ribassisti probabilmente rimaneva poco tempo, poco tempo perché gli indicatori si stavano ripiegando, il DMI minus verso il basso e il plus verso l'alto e la DX, guardate qua siamo su Scala Daily, ha iniziato a flettere, quindi il momentum verso il basso che era stato dato dalla candela del 18 giugno si va spegnendo, oggi il DAX impegnato a area 15,650 non è riuscito a superarla, però l'intenzione sembra quella di un test di questa importante fascia di resistenza dove passano numerosi top intermedi e il superamento con volumi vorremmo vedere, probabilmente potrebbe rilanciare il DAX verso una nuova gamba rialzista con obiettivi minimi in area 16.000 a questo punto, quindi da seguire con attenzione tra domani e dopodomani cosa succederà tra 15,650 e 15,750, se andiamo a vedere anche sul grafico a due ore e qui il DMI plus ha già incrociato e addirittura la DX si è portato verso l'alto, si vede chiaramente la rottura rialzo della volatilità stop line, quindi ora è 15,650 su questa scala temporale, fa addirittura da supporto, quindi domani giornata importante, rimane un po' più indietro il Futsimib che è più debole perché è appesantito dal settore finanziario che continua a rimanere debole, la resistenza per il Futsimib è a 25,500, dicevo che continua a rimanere debole il settore finanziario, questo è l'indice del DAX bancario che oggi fa un più uno e uno, ma come vedete non riesce a interessare la prima resistenza importante che è qui dove sono adesso con il mirino in area 93, l'XLF che è l'ETF dei finanziari americano oggi meno 0,3 quindi debolezza proprio su questa resistenza a 37, non è un segnale molto buono questo qui anche perché si trova anch'esso a ridosso della volatilità stop line che è impostata negativamente. Il settore finanziario pesa, pesa sugli indici principali, abbiamo parlato ieri della rotazione verso i tecnologici, non sto a ripetermi, l'America oggi è poco mossa perché ci avviamo, adesso ormai tra domani e dopodomani vedremo, domani penso vedremo ancora una giornata cioppi, poi tra giovedì e venerdì con i dati dell'occupazione ci dovrebbe essere nuova volatilità, quindi non starei a dilungarmi troppo sui vari indici, le novità oggi vengono da loro, un paio di giorni fa chi segue sa avevo detto che mi sarei aspettato un ritest di area 1750, ovvero del minimo del 18 giugno e oggi c'è stato questo test, i prezzi si sono spinti a ribasso, hanno toccato esattamente 1751, dopodiché si sono riportati verso l'alto, un test importante di questi giorni, quest'area se dovesse tenere potrebbe, come dicevo, dar vita a un movimento come minimo di rimbalzo verso area 1830, quindi c'è abbastanza spazio, anche questo io lo seguirei, stessa storia per l'argento che va di pari passo, un test perfetto oggi da confermare domani, però anche per l'argento c'è spazio, ovviamente questi scenari verrebbero negati alla rottura di 25,5 per l'argento e verso il basso con la conferma della rottura di 1750 per l'oro. Veniamo alle richieste, prima delle richieste ne approfitto per ringraziare tutti quelli che ci seguono già su TradingView, ma anche su YouTube, quindi per i numerosi like che mettete e i commenti, quindi sono molto apprezzati, volevo fare anche una nota di ringraziamento a tutti quanti sostengono questo canale su entrambe le piattaforme. Dicevo, veniamo alle richieste, la richiesta è per Diasorin, che passerei a vedere su Scala Weekly perché è sicuramente interessante, appena rotto la resistenza in area 154 e l'obiettivo è interessante perché potrebbe essere area 185, quindi un consolidamento di questi livelli, quindi con una tenuta di 154 che ora potrebbe fare da supporto, sarebbe un segnale interessante per Diasorin, questa figura che sembra voler impostare è un doppio minimo con i due minimi in area 136 su Scala importante, Scala Weekly, quindi è un doppio minimo significativo. I volumi, ecco, l'unica nota sono i volumi che, anche se la settimana ovviamente è appena all'inizio, siamo ancora a martedì, però occhio perché comunque una rottura del genere deve avere anche un minimo di supporto da parte dei volumi per avere maggiori probabilità di riuscita. Va bene, anche oggi un video un po' più breve, ci aggiorniamo a domani, lasciatemi come sempre nei commenti eventuali richieste o segnalazioni di situazioni interessanti, vi ringrazio dell'attenzione e ci aggiorniamo appunto a domani sera, grazie.